Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nomissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome, ovvero CROATOMIST. Accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta scioppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi ma adesso godetevi questo fantastico video. Luca mi ha fatto al marotto il c***o. Aspetta proprio sinceramente. Come? Landeremo qua ragazzi. Va bene. No, quando vuoi andare siamo pronti. No, vai. Ma che vuoi dire dove stavamo andando? Qua, fattoria. C'ho la quagola in freezer. You are getting trolled. Io ho un bait perfetto. Perfetto. Lui lo prendo, la posso prendere io le c***o. Eh, attendi che se questi beccano il cecchino siamo tutti nella c***o. No ragazzi. Lo prendono un oro, lo prendono un oro. Uno qua eh. Uno in casa. Ho sceso su una R vicino al lama figli di c***o. Davvero un cecchino. Quindi hanno il lama? Sì, sì. C'è il problema. Hanno un sacco di mazzi. Dove di me ci sono due testi. Ragazzi, mi hanno andato da bus. Noccato, noccato, noccato. Noccato, noccato raga. Finito. Eh, sono gli ultimi due ragazzi. No, c'è uno anche qua. Uno anche in questa casa che mi sta mirando. Oh, c'è un'altra parte qua. Vabbè, ragazzi, ragazzi, ricordatevi che è un torneo accessibile a tutti. Ragazzi, ragazzi, siamo... Ragazzi, siamo letteralmente in una pubblica. Quindi, per cercare di prendere i più punti possibili, dobbiamo fare una marea di kill. Frega un c***o, ci sono dei bot. Ma già dal game dopo non troveremo più questi bot, eh. Sì, infatti, dobbiamo... Secondo me... Che diamo, che diamo, gatto. Dobbiamo fare ore con i punti, ragazzi. Tanti. Dico, dobbiamo uscire a questo game da 40. Ma lì tu ho curato, siccome... Ho trovato. Che cosa fai? Io, io... Mi sto trovato. Mi sto trovato. Che vuole un tattico blu che lo busto, ragazzi? Io ce l'ho già. Lo possiedo al momento. Io mi prendo i tattici. Eh, vai. Ho fatto prendere il mio punt verde. E' stato a far big. Eh, Fè... Ma quanti dio. Sei troppo sola, ti prego. Ma dove c***o state voi? Eh, siamo andati avanti, Fè, e ti abbiamo fingato il big. Ah, ok. Che arrivo. Deve so dormire. Doppio flopper, raga. Stavo litigando con una cassa. Avete granate? Posso buttare tre medigit per due flopper? Double songs. Oh, due puzze vicine. Miracchio. Mettetevi vicino me se volete. Ma il drop l'avete preso? No. Ah. Pistola... Viola. Come? Pub blu. Pub mi serve. A meno che non trovo lo spasso. Ho catturato il tattico viola. Scidone qua. Ho trovato una lattina. Lo scidone non lo può prendere nessuno, ragazzi. Posso la miraglietta. Flopper. Ah, sì. Flopper prendo io. Due. La gente là. Dove? Ficchiamoli. Lì. Bianco, mi sa? L'altro pure è rotto, l'altro pure è rotto la cinta, quella sotto. C'è uno sopra? Ficcate là. Ok, ragazzi, perché non ci percoglia. Hs 41. Rotto il venti bianco, viti bianco. Ragazzi, li abbiamo rotti, li abbiamo rotti. I efesto stiamo bruciando. Dobbio venti, stanno arrivando. Ragazzi, bocchiamo. Eh certo, dobbiamo bocchiarli, sono tutti rotti i shield, vai. Tira un po' di grande. Un primo di più grande, pezzo, non direi che siamo mai... Un mire, un mire, un mire, un mire, un mire, un mire. Un mire, 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 un mire. Mortto uno. L'altro, non c'è uno sopra. Allora c'è uno poi sopra, ok? È white, white, uno di numero, proprio. Ti ho lasciato il tac. Mamma mia, ragazzi. Sì, sì, sì. Vabbè ragazzi, grazie mille per questo bellissimo giro. Sì, 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 al domani, al domani. Qui c'è la fiacina. No, sono molto più near, andiamo su questo. Appunto per quello l'ho detto. Ti sto seguendo, Marti, io ti so indietro. Io sto arrivando. C'è una OG, la prendo io. Eh, io l'unica voce che sento bene è quella di Viti. Eh, non va bene questa cosa. Sono qui sotto, sono qui sotto, sono qui sotto. Eh, ho picciato il microfono. Quello l'ho fatto cadere, Marti, io non scherzo. E' ancora un. All right. Lo spammo, lo spammo. Eh, vabbè. Mi ha la trappa. Non cado uno. Non cado un altro. Notto, notto, notto. Knock, knock, knock. Clappato uno. Molto. Ho sempre 50, eh, ZDG. Ho visto la clip, ma ho detto, eh, ZDG. Ragazzi, fight, andiamo, 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 andiamo. Facciamo il tiro di parte. Gli inizio stanno a giro di parte. Ma è morto, è bloccato, easy. Era fermo. 200 centimetri? Era fermo, gli infami diranno. Ma che cazzo hanno fatto al ponte? Un live vicino, io vi. Vince, ti fai la coltività, non da me. Hanno evitato un musch. Bush, scendini qua, Bush. Scendini qua, fatteli. C'è blu? Là? Ah, io punch, non è che va sverso. Che questo non è che scomporo di... Lassi da quel muro, lassi da quel muro. Quale muro hai? Ho pingato. Sì. Niente. Che scelgo. L'ha detto, l'ha detto. L'ha detto una dalla muraglia cinese. L'ha detto. L'ha fatto fio di... No, l'ha detto l'altra. Guardi, ci sono i new treasure. Mi piazza di lato. Apro. A terra. Mi shieldo. Mi shieldo un secondo, ragazzi. Morto, morto. Stavo con le reti qui. Mi stanno stommando pure la madre. No. Vai dietro, vai dietro, vai dietro. Mi sta facendo 6 dc. Sto smetti di tar la gente? Da, andiamo. Un po' io di tar, dai. Ragazzi, ho zero legna. Fiti, guarda lì, Fiti, guarda lì. Fiti, guarda lì. Dove? Quel muro lì, non la stiriamo? Quello lì. Fattolo, vingo. Quello lì. Sì, vedo. Vai. Itati, due, itati. Due shot e 15. Dopo, shot e 15. Ok. Dilatera il muro. Ok. Ok. Ah, brinca. Ah, non ho inedato, non sto giudendo. Morto, no. Mi stanno giudendo. Morto, no. Knock, knock, knock. Guarda me. Knock, knock, knock. Mi spezzato? Sono attrappato. Ragazzi, puciamo la guardia cinese. Dì, sì, sì. Ragazzi, qua facciamo 30 bombe, eh? Ragazzi, facciamo 30 bombe, eh? Let's fucking go. Spass. Andiamo. Vado lì. La senta quel muro lì, quel muro lì. Entra. Ricarico. Qua, qua. Arrivo, arrivo. Tutto c'è l'uno comunque, eh? Dove? Tutto dov'è? Tutto il ponte. Sono sotto il ponte, eh? Sì. Dove? Dove? Mi sparano da dietro, di qua. Morto? Non è il mio, quella troppa. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Pity, datemi ragazzi. Più. No, 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 io ho due. Vieni, tu lo dici. Andiamo? Lasciali, lasciali. Oh. Vittato se si è lasciati, Pity. No. Dameli. Vabbè, sì, cazzo, non ne importa. Morto? Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Sono qui. Arriva da te. Droppa mini? No, stai bussando. Vabbè. Andiamo, andiamo. Pity. Ci sono due qua. Due. Al buono là, ragazzi, al buono là. Con i mattoni voglio stanno. L'ho, 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 l'ho. L'ho, l'ho, l'ho. L'ho, l'ho, l'ho. L'ho, l'ho, l'ho. E' fai di tutto di te. 32 white e 23. Ho attraffato uno. Terra. Nate da me. Morto un altro. No, no. No, no. Da me, da me. Mi attaccano da sud. Body, 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 body. Stiamo raggi, stiamo raggi. Body, è bianco. Morto con la mia trap. Ma che cazzo. Abbiamo fatto 30 bombe, dai. Stiamo raggiando 34. 170, 170. Genta da me. Si, da me, da me. No way, mi ha toccato. Morto. Vabbè, due di questo è scappare o... Vai, l'ultimo. DJ. No, ragazzi, ci ho fatto due punti. 50 punti così, ragazzi. Come si può fare? Eh, la cosa che... La cosa che mi fa capire, vi rendete conto che... Ci sono team che le fanno le zone finale, queste cose? Anche peggio. Come cazzo fanno? Perché sono... Perché tutti quanti... Perché tutti quanti diventano bot per queste persone. Tipo come questi qua per noi, capisci? Sì. Sì.